I locali della Badia di Canicattì domani pomeriggio ospiteranno un importante convegno dove si parlerà di IMO agricolo ma soprattutto si parlerà delle prospettive per quanto concerne il comparto agricolo del canicattinese. Sì, infatti il nostro gruppo, le tappe Canicattì in movimento, ha organizzato per domani questo convegno che riguarderà appunto l'IMU sui terreni e le prospettive agricole nel comprensorio canicattinese. Come a tutti noto, la legge del 19 marzo di quest'anno ha esentato tutti i comuni montani dal pagamento dell'imposta. Peccato che il nostro comune di Canicattì non rientra tra questi paesi perché l'Istat lo ha classificato come comune non montano. Purtroppo questa imposta colpisce un territorio che è a vocazione prettamente agricola con ripercussioni negative anche in un settore come quello agricolo che già si trova in crisi. Il convegno sarà anche lo spunto per trattare le problematiche che impediscono, che ostacolano lo sviluppo dell'economia agricola nel comprensorio di Canicattì. A conclusione del convegno daremo spazio ai relatori e ai partecipanti per un dibattito per dar voce così agli intervenuti e sentire quali sono le loro esigenze e le loro proposte. Queste proposte alla fine verranno raccolte in un documento che verrà a sua volta consegnato nelle mani dei nostri rappresentanti politici a livello parlamentare, nazionale ed europeo. Al convegno parteciperanno la nostra deputata al Parlamento nazionale, Azzurra Cancelleri, alcune associazioni di categoria e ancora esperti nel settore. Chiaramente sono invitati a partecipare non soltanto gli addetti ai lavori ma anche tutti i cittadini interessati all'argomento. Il convegno ribadisco si terrà sabato prossimo 11 aprile alle ore 16.30 presso i locali della sala convegni e la badia.